C'è un nuovo sistema per il sviluppo e il sostenibilità. Ma non sono italiani? No. E' buonissimo anche questo. E' buonissimo, eh? La burrata di Pasquale, è meravigliosa. Ma si sente il gusto se noi avviciniamo un po' di burrata? Scusate per te. Ma tutti devono arrivare a Pasquale. Pasquale è in Beverly Hills. Non so se i ragazzi conosci, è molto vicino a Santa Monica e Wilshire, nel cuore di Beverly Hills, dove pensi che sia solo un po' di fasi. È un po' di fasi, ma è il suo lavoro. È un caso di Casalingo. Non è anche un po' di fasi, ma non è un po' di fasi. È un po' di fasi. È un po' di fasi. e Enzo, lo che stiamo facendo, che mi sono felice che stiamo supportando, è che per circa un anno stiamo facendo qualcosa che stiamo chiamando italiani in film si, è molto famoso, davvero, davvero ho cominciato qualcosa che era chiamato cinema italiano stile sette anni fa, e una volta a un anno stavo portando, ancora sono, circa un dozen, 10 italiani nuovi film ma poi ho realizzato che non puoi concentrare tutto in ogni anno, è bello di celebrare produzione italiana durante l'anno e portare più e più cose in Los Angeles e quindi, ciò che abbiamo pensato con un gruppo di amici, è qualcosa che si chiama italiani in film, dove abbiamo portato un film che può essere da un diretor italiani o è un produzione italiana, o è un prodotto italiana, o è un film che può essere editato da un italiano quindi in Dezember... ma solo fiction, non documentari tutto, in Dezember, abbiamo mostrato i documentari di Sout of the Border, da Oliver Stone, in Italia, perché l'editor è italiano è un altro paletto beh... questa è alta qualità, questa è un altro paletto, è un professore l'Italian-American TV era lì, Maria Grazia Cucinotto è arrivato con il nostro coccatelato e è stata qui qui in dell'Irano Sicilia in della Sicilia era davvero bella e supportata Maria Grazia Cucinotto è sia come Sofia Loren la prima Sofia Loren e la post-modern Sofia Loren E' molto bello, molto supportante. Mediterranean, veramente, mediterranean. E' vero. Quindi veniva e supporta noi. E poi Elisa Bonora, che è un film editor italiano, che vi metterò a l'Italian Film Cultural Institute tomorrow, edita il film. E' per questo motivo abbiamo il film come parte degli film italiani. E' un film, che vi metterò magari un film futuro, dove il costumatore è Milena Canonero, o il composer è Carlo Siliotto. In realtà, uno dei nostri prossimi progetti, qui, sarà il film di Enrico Tognazzi, Il Padre e lo Straniero, che è proprio in Italia. C'è una musica bella di Carlo Siliotto. E' una musica bella, che spero che i membri di l'Academia abbia ascoltato, perché dovrebbe vincere l'Oscar. Compostato da Carlo Siliotto, e le letture sono scritte e scritte da un actor Libanese, Haz Sliman. e era il che era giocato il trame in Il Visitor, L'Oscarino di Tenante. Lo ricorda? Ricorda il film? Ricorda l'Italiano? No. Non lo ricorda l'Italiano. Non lo ricorda l'Italiano. No, non lo ricorda l'Italiano. Ma è un bellissimo ragazzo. E' un cantante, e' ancora un cantante, e' un cantante, e questo, lullaby, e... eコ che voglio portare, e davvero ho trovato uno Ready? Lookare many – Che vele? No, ognuno! Il tempo a volte! detailed принherlo Il Mare di Joe. In febbraio. Quindi, in fronte di questo grande professore che voglio imparare per loro, io sono un cantastorie, un narratore di storie siciliane, perché io credo che sia importante che tutti conoscono queste storie sconosciute perché nella nostra cultura l'emigrazione ha marcato un periodo storico molto particolare, diciamo che noi non siamo andati via dall'Italia, nessun italiano fugge dall'Italia ma piange lasciando la propria terra perché ha necessità di sopravvivere e quindi per questo noi vogliamo raccontare questi italiani perché questi italiani non vengono dimenticati. Hai ragione, meno male che ci sei, ci sono persone come te che le raccontano queste storie perché hanno bisogno di venire raccontate, di venire scoperte. Queste sono le storie che devono essere raccontate, ricordate, italiani, città italiani, città italiana e città italiana, noi sappiamo quanto è costruito l'America, è una delle persone che è costruito l'America e ora, gli americani che conosco non sono sempre più entusiasti perché tutti conosciamo alcuni dei negativi, alcuni dei non sono così positivi. Ma spero, non solo gli americani, gli americani, ma tutti gli americani nel mondo, che riconosciamo che l'Italia non è solo la mafia, l'Italia è molto più di quello. No, sto parlando dell'Italia, l'immigrazione qui. L'immigrazione qui è stata un'ultima. L'immigrazione qui è stata un'ultima. L'immigrazione qui è completamente diversa, è molto conosciuta, è molto culturale, è un'ottima e un'ottima, è un'ottima, è un'ottima, è un'ottima, è un'ottima, quando i americani sono arrivati nel l'inizio, è un'ottima, è un'ottima, merda di persone che si tratta. ma per la nostra generazione vogliamo rimanere in Italia perché non solo i buoni persone se tutte le persone vengono fuori dell'Italia l'Italia è molto poca con la cultura e il知識 vogliamo rimanere in nostro paese e lavorare fuori ma voglio rimanere ogni volta e non voglio rimanere un lungo tempo fuori del mio paese voglio rimanere qui